Abbiamo cercato di rispondere alle molte domande inviate qui nel blog giuliofretes.com, ad esempio la richiesta anonima inviata chiedendo «Ciao Vesco Giulia, ho bisogno di un consiglio, sono stata tradita da più di quattro anni fa». Le afferma «Lui non ha mai assunto il suo sbaglio, ma io sono sicuro che lui mi ha tradita, perché spesso mi mentiva. Io sono convertito e lui è allontanato. Lui si è allontanato dalla persona con cui mi ha tradito, ma continua guardando i film pornografici. Una cosa che non mi gradisce mi lascia molto arrabbiata. Osservo che a lui piacciono le ragazzine, ed io non sono più una ragazzina, ho 47 anni, anche lui. Ma sembra che lui ancora non si vede. Pensa di essere ancora un giovane. Sto pregando affinché Dio mi dessi una direzione, perché lui è cieco spiritualmente. I miei figli si sono anche allontanati a causa di lui. «Che cosa devo fare? Devo supportare tutto ciò? O mi separo definitivamente? Mi aiuti, per favore?». Ascolta e fai molta attenzione in ciò che parlerò, tu internauta. Sposa e mamma di un uomo che, così come hai descritto qui, lui non si vede. Lui si sta svalorizzando, passando ore o minuti davanti ad un computer o di un televisore, assistendo film pornografici, che non gli darà nulla di buono né alla sua vita coniugale, familiare, morale e molto meno fisicamente parlando. Certamente quelle fantasie non saranno mai realizzate e ciò finisce per bloccare la mente dell'uomo. E' una cosa comprovata della scienza, che la pornografia affetta la salute dell'uomo, psicologica, emozionale e anche sessuale. Ebbene, quello è lui stesso che deve risolvere. E' lui che deve arrivare da te come marito, come compagno. Se lui realmente ti ha tradito o no, adesso non più in questione. La questione ora è che lui deve superare le sue fantasie, superare le sue debolezze, riconoscere i suoi sbagli. Anche se lui non si sta avvolgendo sessualmente, fisicamente con un'altra donna, ma ogni volta che lui assiste ad un film pornografico lo fa, il Signore Gesù è arrivato al punto di dire che quando l'uomo guarda una donna e la desidera nel suo cuore, o si alimenta dentro di sé fantasie, desideri, i quali non sono giusti, non sono corretti, una volta che lui sia singolo, l'altra persona sposata, entrambi singoli, o lui già sposato e l'altra persona singola, questo no, gli dà il diritto di un uomo desiderare una donna. Può sia mirarla, ma non custodirla nel suo cuore. Ciò lo stoccolerà dell'essere in condizione di conoscere la sua altra metà. E se già la conosci, come in questo caso il padre dei tuoi figli, sviluppare la sua relazione come uomo, come marito, come padre, come compagno, come amico. Quindi ciò che è accaduto e passato, adesso lui deve riconoscere che ha bisogno di aiuto, del consiglio di un pastore. Lui ha bisogno di partecipare alle terapie dell'amore tutti i giovedì nella Chiesa Cristiana, sia qui in Europa o là in Brasile. Lui deve, ha bisogno di orientamento, di accompagnamento. Riguardo alla tua domanda, devo lasciarlo e ricominciare la mia vita? Io non penso che ciò sia la soluzione, anche perché lui insiste in vivere con te. E questo significa che nel profondo del suo cuore, là nel più intimo dell'essere di questo uomo, lui sa che sta sbagliando e lui ha bisogno di liberarsi. Lui ha bisogno di avere un incontro con Dio. Lui ha bisogno di trovarsi. Perché certamente lui sa che è stato un marito incompleto e frustrato. Un padre incompleto e frustrato. Perché lui non è stato il marito che doveva, né il padre che doveva. e di conseguenza lui si sente frustrato. Dunque, la separazione non è la soluzione. Perché affermi il teso sacro che se l'uomo consente vivere con la donna e lui non è cristiano, non è della fede, che non lo abbandoni. Perché il marito incredulo sarà santificato nella convivenza con la moglie, che è della fede, che è realmente convertita e salva. come anche vale per la donna. Se l'uomo è convertito e la donna non, ma lei consente di vivere assieme a lui, che non lo lasci, perché lei sarà santificata tramite la convivenza del marito che è, in questo caso, una persona convertita, una persona libera, una persona salva. Riguarda i suoi figli. Stanno seguendo cattivi esempi, stanno guardando che voi non siate felici, che voi siate divisi. Allora, tocca a te dare attenzione ai tuoi figli, anche se il tuo marito dà cattivi esempi, che lei segua, danno buoni esempi. Ed un'ultima cosa, lei non è vecchia, lei è giovane, lei ha 47 anni, si valorizzi, lei ha un gran valore, può essere sicura di ciò. La bellezza di una donna non è fisica, non è solo attrazione sessuale, non è visuale, è la tua morale, la tua fede, si valorizzi come donna, investa in se stessa partecipando da quel lavoro di Godiliudi che la struirà molto. Ho la certezza che in breve ci racconterà la trasformazione del suo marito, alla conversione dei suoi figli e la sua realizzazione sentimentale, familiare e coniugale. Spero che questo orientamento le sia stato d'aiuto. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.